Una struttura contemporanea, polivalente e flessibile che restituisce un luogo profondamente identitario della città e del valore storico e affettivo. Con queste parole è stato presentato il progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex cinema turreno durante un evento organizzato a Perugia, nella sala dei notari di Palazzo dei Priori. In particolare è stato presentato il primo stralcio con un percorso interamente finanziato e i lavori che inizieranno con il nuovo anno, mentre per il secondo stralcio è partita intanto la progettazione con l'avvio dei lavori per la prossima primavera. L'assessore all'urbanistica del comune di Perugia, Margherita Scoccia, ha detto che il nuovo turreno sarà una struttura rivista nelle sue funzioni originarie ma in un'ottica di ampliamento. La chiave di lettura del progetto aggiunto si inserisce nella sua tradizione di politeama e di teatro di tutti ma in chiave contemporanea. L'assessore ha poi evidenziato il percorso differente delle sale, quella grande del turreno e quella della turrenetta, che avrà quindi una sua identità specifica. Un recupero che arriva, aggiunto Scoccia, in un quadro di riqualificazione dei contenitori culturali del centro storico di Perugia visti in ambito armonico. Per l'assessore alla cultura Leonardo Varasano ci si avvicina così con concretezza alla restituzione di un bene caro, di uno spazio significativo della città. La riqualificazione, come ricordato, è stata fatta grazie a una sinergia tra istituzioni, Comune, Regione Umbria e Fondazione Perugia. Nel 2021, spiegato l'assessore regionale alla riqualificazione urbana Paola Gabiti, ci siamo resi conto che non c'era più il tempo per finire i lavori e abbiamo deciso di riprogrammare i fondi e indirizzare quelle risorse per la Biblioteca Augusta e per San Francesco al Prato. Parallelamente ci siamo impegnati per altre risorse che hanno dei tempi che consentono di mettere in campo il progetto fino al 2026. Non sufficienti certamente, ha precisato Gabiti, e per questo siamo intervenuti con altri 4 milioni di euro. Non abbiamo perso nulla, quindi. La Regione c'è e siamo pronti a realizzare quei progetti che qualificano tutta l'Umbria. La Presidente della Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, ha poi ricordato l'acquisto dell'immobile, poi donato con una convenzione al Comune e alla Regione, oltre alle risorse messe per il suo recupero.